Grazie In quanto ringraziamenti volevo ringraziare tutte le persone che sono venute anche da lontano per conoscerti per portare gli ultimi pezzi di sciarpa per essere solidarie con noi Io ringrazio tutti quanti non mi aspettavo un'accoglienza così calorosa così bella così intima le parole non è che mi vengano a finire però posso dire che sento che ci sto bene qui in mezzo a voi sono felice di essere partecipe a questa manifestazione la sciarpa è incredibile questa cosa la tua idea l'ho trovata geniale e quindi devo dire che mi piace fare la madrina di queste cose mi piace perché sento che sono fatte proprio che vengono dal cuore vengono da un intento da un'idea di fare qualcosa di buono e c'è tanto bisogno nel mondo di oggi quindi grazie a Michi grazie a voi della vostra del vostro essere qui del vostro essere intorno e devo dire che è un pubblico diverso l'abbiamo avuto ma altrettanto calmo caloroso e sincero grazie grazie a voi 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 grazie a voi